Virginia Verasis, Contessa di Castiglioni. La donna più bella d'Europa. Quanto sei bella! Me lo ripetevano fino alla nausea. La sua passione. Questo è il desiderio. L'amore è un'altra cosa. Sacrificata alla storia. Una scelta eccellente. La sua vita. Farla scivolare nel letto dell'imperatore. Strappata dalla politica. Per indurlo ad un'alleanza di ferro con noi. Parigi non mi interessa. Una donna al centro di un intrigante piano che accese il nostro risorgimento. E un soldato deve eseguire degli ordini. La Contessa di Castiglioni. Prossimamente. Rai 1.